Ciao a tutti ragazzi, ho un nuovo video che si è il video dell'unboxing del pacco Avon e di questa campagna qui, che è la numero 2, qui c'è Leo che mi annusa perché avevo toccato un cagnolino prima, non sembra saputo che c'è nel pacco, ci sono delle ciabatte da uomo, queste si chiamano pantofole da uomo, sono invece le pantofole per donne, sono queste bianche con il fiocchetto di nere qui, davvero bellissime, queste si chiamano, pantofole snowflakes, poi c'è questa qui che è la borsa da fitness, che è quella lì appunto a bauletto insomma, con questa fantasia ufficeleste, non so come farvela vedere, praticamente il fi si apre così insomma, viene fuori rettangolo via, davvero carinissima, ve lo prenderò anch'io, infatti forse me la prenderò, poi ci sono due bagnoschiuma, questo qui è la vaniglia orchidea, e questo qui è orchidea e lampone, questi due, poi sempre di bagnoschiuma c'è questo qui che è un gel docce da uomo, poi sempre per uomo c'è questo qui che invece è un sapone per i capelli e per il corpo, dell'Avon Man, poi il sacchetto grande che l'ho preso io per la mia cliente che ha ordinato la borsa, poi c'è questo qui che è un detergente per le mani, questo qua, poi c'è questo qui che è un pediluvio rilassante, però mi è arrivato senza etichetta davanti, infatti non so se lo rimanderò indietro, ora vedo, poi ci sono questi, sono due, degli orecchini Hertlin, quelli che ho preso mia madre un po' di tempo fa, e sono appunto tutti e due uguali, non li apro perché comunque non sono nostri e l'avete già visti, poi questo è uno scarbo per i piedi, della Footworks ai sali marini, poi ancora questo qui che è una terra solare, di quella lì con la terra e il pennellino tutto incorporato, questo qui è un mattitone per le labbra, nella colorazione red, ha-hut, non so come si legga, sono di quelli nuovi se non sbaglio, di bellissimo, si vede appunto qui il colore, questo qui uguale, nella stessa colorazione, poi questo qui invece è un altro smalto, quello che ho preso anche l'altra volta, Aqua Verve, che è appunto, questo bellissimo latte e menta, e siccome mi è piaciuto tantissimo, quando l'ho preso la mia cliente, l'ho preso anche per me, e se volete vedere la review prossimamente, poi questi sono campioncini del profumo nuovo, quelli di Far Away, ho preso un po' per darla anche dai miei clienti, e poi questo qui è un rossetto, della colorazione Spring Lilac, della Ultra Color, poi ci sono un catalogo, quello lì, della campagna 5, questi altri della campagna 4, che ho comprato io, poi i foglini e i foglietti come sempre, e questo qui è tutto anche per quanto riguarda questa campagna, spero tanto che questo video vi sia studiuto in qualche modo, e vi mando un grosso bacio al prossimo video, ciao!